Ben ritrovati amici che ci seguite attraverso la rete, a noi piace questa rete nonostante siamo tornati a vederci, è in presenza, è bello rivedersi e scambiare personalmente anche quattro chiacchiere e soprattutto capire esattamente dove stiamo andando. Bene, questa mattina siamo in diretta da OST, Milano e ogni giorno trattiamo diversi argomenti che sono veramente interessanti, iniziamo a capire quali interferenze oppure quali frequenze nuove si stanno aggiungendo al mercato agroalimentare e ristorativo, distributivo, mi permetto di dire questo. Il titolo di questa nostra trasmissione è dedicata proprio al ristorante del futuro, vedremo un po' cosa succede. Una serie di, un gruppo di persone intelligenti si sono messi insieme, non solo questa mattina per un talk show ma in maniera energica, vera, per dare un servizio importante dopo un'emergenza purtroppo che ci ha un po' disorientato. Ma c'è anche un po' riorganizzato. Deida, salve, è piacere di rivederla. Presidente, lei ieri ha detto due cose che mi hanno un po' colpito, poi chiediamo ancora a lei quello che ha detto ieri perché è importante che si sappia, è a chiare lettere. Dopo questa emergenza come sarà questo futuro? Vogliamo partire da dove, Iannone? Partiamo dalla cantina oppure partiamo proprio da Antonio Iannone che è un consulente food tech, molto consulente, molto intelligente. Il progetto, non Antonio Iannone, prego a te la parola. Alziamo il giallo, grazie. Alziamo il giallo, come vai? Il giallo colore giallo limone deve... Scusa Iannone, no anche perché vedi ti hanno fatto uno scherzetto perché bisogna accenderlo questo microfono per poter... Eccolo qua, proviamo un po' col giallo. Prova, vai. Ok, ma guarda, se ristorazione e innovazione, se avessimo fatto questo panel tre anni fa avremmo parlato di due mondi molto distanti. Oggi, 2021, nel mezzo di una pandemia, questi mondi sono molto più vicini. Diciamo, non parliamo ancora di un settore completamente innovativo e digitalizzato, ma parliamo sicuramente di un settore che ha fatto passi da gigante. Come tra l'altro ha detto ieri, in un altro panel, il presidente Sbraga, una ristorazione che ha fatto passi da gigante nell'innovazione. Direttore, pardon. Quindi, una ristorazione che è sulla strada giusta per innovare, come poi vedremo anche con le diverse start-up presenti sul palco. E cosa significa consigliare il ristoratore? Perché il ristoratore non vuole mica essere tanto consigliato. A volte pensa di poter sapere far tutto, Antonio. Ma sa far tutto, ma appunto il ristoratore deve fare il ristoratore. Quindi tutte le start-up presenti, e anche quelle assenti, permettono al ristoratore di concentrarsi su quello che sa far meglio e delegare a degli assistenti digitali, a delle start-up, tutto quello che ruota attorno, che diciamo non è proprio il core business. Ecco, per usare una semantica molto, molto start-up para. Il core business. Allora, io direi, gentilmente, se collaboriamo al nostro amico che abbiamo conosciuto, Gianluca Casella, direttore commerciale di The Wine Cider. Andiamo in cantina. Allora, partiamo dalla cantina che è sempre quella che costa troppo al ristorante. Mantenere dei vini blasonati, importanti in cantina. Ci vogliono dei soldini. Una volta era una cassaforte la cantina. Una volta? Alziamo, no no, è tutto acceso. Alziamo il verde, grazie, vai. Beh, innanzitutto buongiorno e grazie di questo appuntamento. Ma sì, la cantina ha rappresentato per anni, come dire, un po' il fardello, da un certo punto di vista, ma anche il piacere del ristoratore di ritrovare nelle scelte delle sue bottiglie quello che era un po' la sua passione. Devo dire che il Covid ha dato un po' qualche spintone, da questo punto di vista, perché la cantina ha rappresentato un assorbimento di risorse finanziarie. E quindi ha, secondo noi, messo nella condizione del ristoratore di ripensare a quelli che potevano essere i suoi processi e il suo approccio alla gestione della cantina. Quindi la cantina è passione, lo era, lo sarà e quindi continuerà a rappresentare per il ristoratore un elemento fondamentale, ma dal nostro punto di vista può essere gestita in maniera più efficiente per far sì che, come diceva Antonio, il ristoratore possa avere tempo per fare altro e quindi tempo per dedicarsi a quello che è il suo core business, giustamente, che fa riferimento alla sua tradizione, alla sua storia. Voi avete una relazione con i produttori, naturalmente, piccoli, grandi, medi, quelli blasonati, le bottiglie importanti fanno parte del... Sì, noi praticamente gestiamo tutta la catena del valore, quindi da quello che è la relazione con il produttore, piccolo, grande, medio, come dicevi giustamente tu, abbiamo dei rapporti consolidati con i distributori perché appunto noi entriamo nel mondo della ristorazione e accompagniamo il ristoratore nella gestione vera e propria. Quindi, sia per quanto riguarda la parte di scelta e quindi di consulenza nei confronti del ristoratore sulla creazione della carta vini, con un paradigma diverso rispetto al passato perché il nostro obiettivo è quello di far sì che il ristoratore venda i vini che è in grado di vendere. Quindi abbiamo un approccio diverso rispetto, per esempio, alla distribuzione tradizionale. E lo accompagniamo poi con una formazione che per noi è estremamente importante fino a poi arrivare alla gestione dell'ordine e alla gestione della fatturazione. Poi ci dirà quanto costa tutto questo, eh? Volentieri. Andiamo avanti, allora andiamo con il nostro CEO Hotbox Anthony Byron Prada che è fantastico perché, fra l'altro, quella motoretta, come hai fatto ad entrare? Non lo so, la portata Cristian che dovrebbe essere seduto di là. C'è una motoretta qui con un bagagliaio, a cosa serve questa motoretta? Refrigerato, cos'è? Che roba è? Sì, noi praticamente di Hotbox abbiamo deciso di, come abbiamo detto anche ieri, cercare di dare la possibilità al ristoratore di portare la passione che ci mette nel fare il cibo che non è solo quello di cucinare ma è anche quello di trovare i migliori ingredienti che te ne sai qualcosa, visto che sei di Agrilinia, ma anche trovare le migliori attrezzature per permettere di creare una pietanza che dia un'esperienza unica al cliente. Noi vogliamo regalare questa esperienza unica a casa dei clienti e lo facciamo attraverso Hotbox. Hotbox è di fatto il forno professionale portatile che può essere installato su bici cargo, su motorini elettrici, come abbiamo per esempio qui in dimostrazione, o sulle macchine e devo dire che c'è gente che le ha montate sulle apri, dei tre ruote, dei carrelli, quindi fondamentalmente basta che lo riesci a trasportare in sicurezza. che ha una tecnologia molto importante all'interno che permette di settare la temperatura tra 65 e 85 gradi, non al di sotto di 65 perché la normativa HCCP direbbe che tu non puoi trasportare il cibo al di sotto di questa temperatura per la crescita di carica batterica, non al di sopra perché noi non vogliamo continuare a cucinare, noi vogliamo mantenere il cibo come lo intendeva il ristoratore, non continuare la fase di cottura. e in più la cosa brevettata davvero, la parte forte del brevetto è il sistema di deumidificazione che consiste in un ricircolo d'aria, tipo una specie di effetto forno ventilato di casa e un deumidificatore che estrae l'umidità e l'insieme di queste due tecnologie permette di trasportare il cibo per più di 40 minuti e conseguentemente fare più consegne in un unico viaggio perché la qualità dell'ultima è uguale alla qualità della prima. Hotbox, consegna, gestisce? Noi non gestiamo, noi facciamo il prodotto, poi abbiamo diversi partner che ti possono permettere di avere, ma anche tra il ristorante del futuro, la tua app online piuttosto che abbiamo dei partner che ti permettono di avere il servizio logistico dei fattorini più motorini in modo che tu possa semplificare anche le tue operazioni ma elevare notevolmente la qualità. Bene, allora passiamo, non possiamo passare, prego prego, non possiamo passare quel microfono ma possiamo passare invece quello con ricambio, ecco, sì sì tutto tranquillo anche perché poi ieri abbiamo usato moto igienizzante, sentite questo profumo che c'è nell'aria. Lei rappresenta? Gio Giolli Ecco, Gio Giolli Mattia Ferretti Di cosa si tratta? Che azienda è la sua? Vi avvicino il microfono Noi abbiamo deciso di accompagnare i ristoratori in una delle sfide più difficili che si trovano a dover affrontare, ovvero quella della gestione del personale. Oggi, più che mai, siamo nati nel 2019 in pre-covid e già in pre-covid il tema del personale era un tema molto delicato io sono stato un ristoratore, ho avuto dei locali e era uno degli aspetti più complicati a causa di volumi altalenanti di lavoro eravamo sempre alla ricerca di extra e di personale in generale. Oggi stiamo accompagnando la ristorazione in un processo di ricompattamento di un puzzle che si è disgregato in milioni di pezzi se prima il personale era un tema caldo oggi c'è un totale, c'è un caos incredibile e soluzioni come la nostra diciamo che aiutano i ristoratori nel gestire il personale e nel riformare le squadre di lavoro. Personale? Di cucina? Di sala? Qualsiasi tipologia di figura che operi nella ristorazione dal lavapiatti al comidi sala, allo chef de rang al cameriere dei piani per gli hotel quindi ci rivolgiamo sia a hotellerie che a ristorazione. Formare quindi? No, noi ci occupiamo di ricerca e selezione. Abbiamo in particolare... Aspetti, noi andiamo a cercare quelle figure che servono al ristoratore? Esatto. Quindi gli fate un po' un esamino, vedete un po' chi so che sono questi ragazzi. Noi allora diciamo che mettiamo nella posizione il ristoratore di trovare il personale con pochissimo preavviso e con tre click. Abbiamo digitalizzato la prestazione occasionale quindi un ristoratore può usare GioGiolli in due modi. Ha bisogno di un cameriere. Professionale? Professionale. Oppure anche io posso improvvisarmi i cameriere? Ma dipende. Noi abbiamo sia... Non ho mai fatto però posso provarci voglio dire. Puoi provarci assolutamente. No, però voglio dire... Verrai proposto a strutture che cercano persone. Deve avere delle caratteristiche questo signore che arriva. Allora la piattaforma categorizza i ristoratori in base a determinate caratteristiche e i lavoratori in base alle loro esperienze. Quindi per farti un esempio pratico ho un ristorante stellato, faccio una ricerca su GioGiolli vedrò solo personale che ha avuto esperienze in local. Ristorante stellato, quindi bisogna stare attenti. Bisogna consegnarlo. È delicato. Molto delicato. Però voglio dire... E quindi questa prestazione occasionale è professionale. Assolutamente. Bene, passiamo a Francesco Medda. Francesco Medda. Scusa, Francesco Medda. Ecco, Francesco Medda. Francesco Medda. Io non vi conosco, quindi proviamo a immaginare. Provate a raccontare chi siete, anche perché abbiamo la rete che ci segue. Assolutamente. Francesco Medda. Sclobi. Presidente Sclobi. Sono nomi fra l'altro un po' anche strani. Sclobi cosa significa? Sono nomi particolari sicuramente. Allora, si è parlato tanto oggi di digitalizzazione della ristorazione, di introdurre servizi di supporto proprio per il ristorante. Abbiamo visto nell'ultima pandemia e lockdown e quant'altro quanto il digitale ha aiutato effettivamente i ristoratori. noi cosa facciamo? Abbiamo creato un prodotto che mette insieme tutti questi servizi. Quindi di fatto Sclobi è un sistema di cassa, quindi emette lo scontino fiscale, gestisce il magazzino. Adesso vogliamo togliere il cassetto anche al ristoratore. Vogliamo togliere la cassa al ristoratore? No, no, non la togliamo, la digitalizziamo. La digitalizziamo. Chiediamo scusa ai nostri amici che ci servono da casa con questi annunci che arrivano naturalmente, ripeto, siamo in diretta da Osta e quindi un po' di pazienza. Certo. Ecco, no, la mia voleva essere una battuta perché cerco di essere simpatico. Assolutamente, simpaticissimo. Cerchiamo di digitalizzare il sistema. Esatto. Allora, noi cosa facciamo? Introduciamo un semplice tablet con un'app che si scarica all'interno. Attimo solo perché... Signorina, velocemente. Gli annunci di sicurezza sono importanti, giustamente. Eccoci qua. Allora, noi introduciamo un tablet con un'app che si installa al suo interno che permette, oltre che a emettere scontrini, fatture, gestire il magazzino, anche proprio di gestire tutti gli ordini che arrivano dall'online, gestire, ad esempio, tutta quella che è la parte di analisi dei propri dati, capire chi sono i propri clienti, creare le promozioni, le raccolte punti. E lo facciamo in un modo molto semplice, utilizzando dei dispositivi che i commercianti sono abituati a usare tutti i giorni, cioè il loro smartphone e il loro tablet. Lo facciamo ormai dal 2013 in tutta Italia e non solo perché siamo operativi anche all'estero. Da un anno siamo iniziati a far parte del gruppo Zucchetti, col quale appunto abbiamo portato avanti questo progetto di digitalizzazione dei ristoratori. È stato facile? Inizialmente no, perché ovviamente inizialmente, come è stato già giustamente detto qua, il ristoratore è un po' lontano dal digitale. Però fortunatamente ha saputo il bello dei ristoratori, specialmente dei ristoratori italiani, che sono pronti al cambiamento. E lo abbiamo visto nell'ultimo anno e mezzo, perché velocemente hanno, per esempio, molti servizi, hanno iniziato a utilizzare molti servizi digital, molti servizi innovativi, a volte non solo software, anche alcuni servizi, proprio hardware, come abbiamo visto oggi, che gli hanno permesso proprio di rimanere aperti e di migliorare le proprie vendite e il loro modo di lavorare. Questo è bello. Presidente, posso disturbarla? Visto che è un attimo distratto. E col digitale siamo pronti? Vede, lui non fa l'oste come me. Perché io avevo due aziende aperte, un po' distanti, in Sardegna, e quindi dovevo anche sapere a che punto erano le prenotazioni di stamattina. sapere com'era il tempo, sapere quanti mi servivano, sapere quanti... Però oggi avete fatto un parterre incredibile. Se domani mattina fosse un pazzo, avreste 300-400 mila euro da bruciare, o qui posso mettere in piedi tutta la ristorazione. Il progetto del consulente, la gestione della cantina, il delivery, il personale che non ho trovato questa estate, la gestione dell'ultimo pezzo che non ho capito, e quindi mi scuso perché era un po'... Quindi vuol dire che noi ci siamo, cioè nel senso che eventi come questi sono effettivamente l'innovazione, il progetto, tutto quello che è il mondo della ristorazione 4.0. Perché io sono di quelli che avendo i capelli bianchi so e ho coscienza che non torneremmo mai a quelli che eravamo precolte Covid. O siamo in grado di organizzare un sistema di ristorazione con tutto questo tipo di offerta, con tutte queste tecnologie, con tutti questi metodi, oppure la sopravvivenza non c'è. È un messaggio chiaro il suo, perché noi conosciamo quei ristoratori osti, come ne chiama lei, che sono un po' gelosini della cucina, del cassetto. Fare entrare delle persone straniere in casa non è facile. Poi le ridò la parola, ecco, un attimo solo. Fare entrare delle persone non è facile. Tu sei Giuseppe, Giuseppe Osserone, commerciale deliveristo. Che significa? Esatto. Il nome potrebbe potrebbe ingannare. In realtà Deliveristo non fa delivery, perché noi siamo in dropshipping, ed è un mercato, quindi mette in contatto chef, ristoratori, sommelier, insomma, direttori acquisto della ristorazione, con una serie di produttori, fornitori e distribuzioni, garantendo un unico punto di fatturazione e vantaggi molto competitivi. Quindi è un mercato digitale al servizio della ristorazione. E come diceva lei, il ristoratore non ha mai tempo. Quindi non ha mai tempo di valutare cambiamenti, ma nel momento in cui lo ha, o lo sensibilizziamo, e Fipe in questo tema, diciamo, è il nostro megafono, riusciamo a far risparmiare un sacco di tempo, il fattore tempo è una cosa fondamentale, e anche un sacco di soldi, perché essendo un gruppo d'acquisti riusciamo a garantire dei vantaggi molto competitivi, sia in termini di prezzo, sia in termini di tempo. Un gruppo d'acquisti ha le sue aziende, potrebbero non andare bene per alcuni ristoratori che piace la tipicità, per esempio. Esatto, noi in questo siamo abbastanza verticali, perché il nostro, diciamo, cluster medio è qualsiasi tipo di ristorazione. Ultimamente ci stiamo concentrando pure sull'hotellerie, quindi, insomma, riusciamo a lavorare bene anche con gli hotel. È stato facile, difficile l'ingresso? Come dicevo prima, il ristoratore non ha mai tempo, quindi abbiamo fatto molta difficoltà all'inizio, ma ad oggi siamo molto soddisfatti del nostro lavoro. Avendo FIPE che in qualche modo accompagna è molto importante. Esatto, evangelizza l'innovazione che io intendo da ristoratore, perché sono anche ristoratore di famiglia, come risparmio di tempo. Risparmio di tempo. Questo risparmio di tempo a volte, Presidente, ritorno un attimo da lei di nuovo. Questo risparmio di tempo a volte allontano un po' il ristoratore, porta via quella poesia che qualcuno diceva, anche dei suoi associati, che questi sistemi portano via un po' di territorio, di contatto. No, assolutamente no. La prima domanda che ha fatto prima dell'interruzione era questa. ma non è che con questo perdiamo il ruolo e trasferiamo agli altri il controllo del cassetto, lo studio della pietanza, tutte quelle cose che fanno il ristoratore all'italiana. Noi stiamo ritornando al concetto non della ristorazione tipica, stiamo capendo adesso che c'è il ristoratore tipico. Il ristoratore tipico è quello che sfrutta tutte queste occasioni, ha più tempo per capire come rendere più felice il suo cliente, fargli risparmiare, fargli capire che può tornare più volte perché così studio le pietanze, il grande salto io ritengo che sia arrivato è questo, cioè smetteranno di entrare nel nostro mercato quelle figure che non sanno, che avevano un po' di soldi della nonna, della zia, della cosa, aprivano un'attività di ristorazione la domanda cresceva e ci consentiva di sopportare. Oggi ritorniamo alle professionalità, la scelta con chi, che tipo, che mercato e il tempo diventa assolutamente indispensabile. Esatto, noi tra l'altro abbiamo diversi clienti che sono ristoratori tradizionali, quindi proprio nella filosofia a 360 gradi che sono nostri clienti, quindi innovazione intesa appunto come risparmio di tempo e vantaggio competitivo a 360 gradi. Grazie mille. È un presidente questo che vede lontano, questo presidente vede molto lontano, è una trasformazione profonda che deve fare Fipe. Il presidente De Idda è molto, ieri diceva grazie anche alla vostra professionalità ristoranti chiusi però con gruppi come il vostro è riuscito anche a continuare a avere una relazione con il cliente andando a casa del cliente conoscendolo magari facendo anche approfondendo anche un'amicizia. Allora Antonio noi vogliamo però creare una relazione diretta scusate il mio difetto partendo dall'origine dal campo eh? Ci siamo? Siamo pronti con il microfono? Pronti? Grazie. Ma dal campo sicuramente considera che Delivery Stockbox GioGiolli Sclobi insieme a It's Ready insieme a Discovery insieme a Lorenzi che non possono essere oggi con noi sono le start-up costituenti della costituenda associazione che si chiama proprio Ristorante del Futuro quindi un'associazione costituenda chiamiamola ancora iniziativa anche in senso scaramantico che vuole portare innovazione su tutta la filiera dal campo non diciamo dal campo alla tavola sì dalla tavola proprio del ristorante un'associazione che nel quale è aperta poi anche ad altre realtà non presenti che presentano prodotti che non sono che non sono che non fanno già parte dell'iniziativa quindi partendo da Deliveristo dal campo fino a Outbox che va sulla porta del cliente ci preoccupiamo di andare a digitalizzare tutta la filiera con un marchio che il ristoratore può usare può anche customizzarsi personalizzarsi ovvero mi interessa questo servizio questo servizio questo servizio mi interessano tutti me ne serve uno cosa vado a fare potete magari aiutarmi anche nel prendere altri servizi a bordo quindi tutta un'ipotetica filiera della ristorazione ristorante del futuro permette di andare a innovare lungo tutta la filiera ecco noi siamo ad host abbiamo visto una tecnologia che sta sicuramente è straordinaria digitale digitale anche in cucina avete diversi aspetti da curare lei è il consulente esatto io poi sono quello che cura un po' la parte di comunicazione un po' il coordinamento tra le varie start up ma qualsiasi settore il ristorante il ristorante volesse innovare noi ci siamo ecco non trattiamo ancora magari proprio l'equipment puro il forno magari intelligente tutta quella parte proprio di attrezzatura ecco non è il nostro core noi siamo più su un su un sui servizi ecco fermo stand outbox ecco che è un equip ma ne avete già abbastanza era solo per entrare entrare anche nel ristorante del futuro abbiamo visto la tecnologia in cucina digitale straordinaria che sarebbe bene anche far conoscere al cliente che si sede al ristorante allora torniamo in cantina che ci interessa in modo particolare quanto costa essere con voi far parte di questo gruppo allora elimino la cantina posso eliminare il deposito possiamo eliminare l'impatto economico finanziario della cantina sul conto economico del ristoratore ma non eliminiamo la piacevolezza di avere una cantina non eliminiamo assolutamente la tempistica noi siamo praticamente come si dice just in time noi siamo nel momento in cui entriamo in contatto con il ristoratore la prima cosa che facciamo perché crediamo fondamentalmente che sia il vero punto di partenza è la consulenza sulla carta vini perché qual è la differenza di oggi rispetto a ieri è proprio un tema di efficienza cioè in passato sono successi i casi in cui i ristoranti avevano delle grandissime carte vini delle grandissime in termini di ampiezza in termini di profondità però la vera domanda era ed è tuttora ma quei vini che hanno in cantina sono effettivamente quei vini che sono in grado di vendere ecco forse no forse per alcuni ristoranti questo non è più vero e allora vuol dire un recupero dell'efficienza vuol dire essere in grado di creare quella che è la carta vini a misura del ristoratore in modo tale che lui sappia esattamente quello che può vendere come può venderlo quindi il nostro primo approccio è un approccio formativo quindi noi lavoriamo insieme al ristoratore nella creazione nella sua carta vini insieme cosa vuol dire vuol dire nel rispetto della sua filosofia nel rispetto della sua storia della sua tradizione ecco perché questo è l'errore sicuramente da non commettere cioè la tecnologia non deve disumanizzare il rapporto umano che si ha con il ristoratore ma che poi il ristoratore ha con la sua clientela formazione cosa intendo formare formare anche come noi abbiamo abbiamo da poco lanciato un'academy per noi la formazione è strategica nel senso che noi formiamo il personale di sala non tanto da un punto di vista contenutistico meglio non solo ma noi formiamo il personale di sala sulla capacità di comprendere quello che sono i vini le caratteristiche del vino all'interno della loro carta vini che è stata costruita con il menù del ristorante quindi noi crediamo che parte del successo del ristoratore sia l'acquisire conoscenza di quello che loro hanno all'interno del loro ristorante la loro carta vini in modo tale che riescono anche a comunicare meglio quindi abbinare cibo vino per intendersi assolutamente sì questo è il lavoro che noi facciamo strettamente insieme al ristoratore è il nostro punto di partenza distintivo e per quanto riguarda la finanza cioè quando interveniamo ma allora noi sulla finanza rispondiamo fondamentalmente in questo modo non è più un tanto un tema di costi ma è un tema di quanto ti faccio guadagnare di più rispetto ad un'efficienza di processi quindi è forse anche il punto di vista diverso con il quale bisogna approcciare oggi il ristoratore oggi si parla troppo spesso di costi non si parla mai però di ricavi di margini esatto quindi il vero punto di svolta è il valore aggiunto che una determinata attività può portare all'interno di un ristorante il pagamento del ristoratore quando deve pagare il vino in poche parole allora noi abbiamo una soluzione come dire come dice il presidente di The Wine Cider abbastanza disruptive per il mercato del vino nel senso che noi mettiamo nella condizione i ristoratori di utilizzare il conto vendita ossia il ristoratore paga il vino nel momento in cui lo vende e questo è un salto quantico in questo tipo di mercato e questo vuol dire però che non vi è nessuna pressione finanziaria su quello che è il conto economico del ristoratore non vi è un deposito minimale al ristorante di bottiglie? no quello che noi calcoliamo e qui nasce sempre dal rapporto stretto che noi dobbiamo instaurare con il ristoratore è capire esattamente quante bottiglie il ristoratore può vendere che tipologia di bottiglie può vendere e quindi quantificare quello nel suo magazzino Antonio vedevo che scuotivi la testa non so mi preoccupi quando scuoti la testa passavogli un microfono un attimo no scuotivi la testa perché non eri d'accordo no nel modo più assoluto non eri d'accordo su quello che stavi no 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 nel modo più assoluto ma pensavo fosse un panel un po' più dove si parlava cioè al di là che tutti fanno dei prodotti buonissimi bellissimi dove si parlava veramente di dove può andare la ristorazione e l'innovazione dove è e dove può andare iniziamo a dirlo perché i prodotti li conosciamo tutti a dove vogliamo andare sono tutti fighissimi no non è non è proprio così non sono d'accordo non sono d'accordo con lei però a questo punto iniziamo conoscervi meglio quale sarà il ristorante del futuro prego iniziamo da te diciamo come facevo l'incipit nell'incipit ristorante che si è avvicinato molto all'innovazione viaggia ve le spiegate verso l'innovazione interessante anche poi il ruolo di Fipe come diceva il presidente perché chiaramente Fipe per i ristoratori è un punto di riferimento non a casa ha organizzato questo panel ecco Fipe può essere veramente il punto di riferimento non dico l'intermediario ma fare un po' da come posso dire da cassa di risonanza ovvero dire signori queste start up fanno dei prodotti bellissimi Fipe approved una sorta di marchio di timbro e quindi creare anche andare a rompere sempre il dottor Sbraga ieri diceva questa barriera digitale questa diffidenza lui parlava lato consumer ma che c'è anche da parte dei ristoratori questa diffidenza verso l'innovazione ecco Fipe può essere il martello è una domanda che fa il presidente no 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 è un'affermazione può essere il martello che va a rompere questo muro di diffidenza che ha la ristorazione italiana verso l'innovazione dicevamo prima esatto 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 quindi dove è adesso la ristorazione è una ristorazione che sicuramente ha preso coscienza è una ristorazione che deve prendere ancora più coscienza che per restare ai vertici deve innovare noi tant'è vero che con Ristorante del futuro tra i progetti in cantiere c'è quello di un adesivo da porre sulla porta del ristoratore e dice noi siamo un ristoratore del futuro e anche solo per un fatto di invidia ma ce l'ha lui allora lo voglio avere anch'io andiamo a creare una sorta di catena quello può essere anche un ristoratore stesso che fa la pubblicità all'innovazione quindi abbiamo un brand esatto 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 Hotbox ma infatti se posso aggiungere qualcosa a quello che diceva Antonio parlando sempre del ristorante del futuro cioè il ristorante del futuro nasce con una missione cioè il ristoratore è un creativo il ristoratore è una persona in grado di fare del cibo e quello è in quello che si dovrebbe concentrare nel regalare una bella esperienza di trasformazione di un prodotto in una pietanza questo è quello che davvero fa il ristorante il ristorante del futuro quello che vuole è prendere la miglior tecnologia che c'è sul mercato e fare in modo che verticalmente ciascuna di queste tecnologie possano dare appunto il tempo al ristoratore di dedicarsi a questo ad altro ad altro allora se professionalmente noi possiamo dare al ristoratore la possibilità di fare il punto cassa digitale piuttosto che il personale piuttosto che la delivery piuttosto che il vino piuttosto che l'approvvigionamento delle materie prime e tutti gli altri capito allora il ristoratore può usare tutto il suo tempo per regalare come diceva il presidente la migliore esperienza possibile al cliente e questo è quello che vuole fare il ristorante del futuro io credevo fossero impreparati i ristoratori invece ho visto che c'è una bella energia quindi questo questa diciamo emergenza sanitaria su certi aspetti ha fatto bene allora su certi aspetti come dicevano anche ieri in un altro tavolo alcuni molti ristoranti magari purtroppo hanno dovuto chiudere le attività però quelle che hanno saputo un attimo adattarsi alla situazione sono diventati molto più creativi e hanno avuto diciamo la fame di riuscire a trovare nuovi sbocchi per riuscire a rimanere in piedi e magari oggi fanno anche cose molto diverse di quelle che facevano prima con molto valore aggiunto per i loro clienti bene allora torniamo invece al cassetto vediamo come gestirlo in maniera digitale ci faccio un esempio io credo che al di là del cassetto in sé anche perché noi di fatto non facciamo cassetti ma ci occupiamo proprio della gestione del locale ok cioè aiutiamo proprio i ristoratori in questo percorso che è un argomento di cui stiamo parlando in tutti gli interventi di oggi stiamo sempre parlando del fatto che il ristoratore fa una delle professioni più complesse che ci siano oggi in quello che è il commercio perché comunque è sottoposto a innumerevoli tensioni continuative il marketing gli ordini al fornitore la gestione del personale ecco di fatto quello che noi stiamo facendo con il ristoratore del futuro è il fatto di andare a aiutare il ristoratore a comprendere come può approcciarsi a questi servizi digitali perché oramai è in dubbio il fatto che ci siano i ristoratori sono sobbissati di pubblicità di diversi servizi ecco noi proviamo a accompagnarli a prenderli per mano e a spiegargli quale può essere il servizio più adatto a lui e in quale circostanza ed è un percorso che sicuramente anche organizzazioni come FIPE si stanno impegnando molto in questo proprio sensibilizzando e portando questi temi nella vita di tutti i giorni del ristoratore quanti già hanno accettato questo vostro servizio? allora noi operiamo in tutta Italia abbiamo oltre 3.000 installazioni appunto su tutto il territorio e come noi sicuramente appunto tutte le altre realtà qua presenti hanno realtà di installazioni concrete di fatto credo che sia in dubbio quanto i ristoratori oggi siano attenti al digitale è sempre più difficile trovare un ristoratore che resista a questo oggi l'unico punto fondamentale è fare chiarezza cioè fare chiarezza su ciò che sono appunto delle realtà utili per lui e quali no ecco aziende un marchio abbiamo detto una vetrofania ho capito bene che tutti i ristoranti avranno che fanno parte anche sicuramente anche sicuramente più che altro per aiutare i ristoratori anche a far capire chi è che ha fatto determinate scelte chi no e quindi sicuramente ma al di là delle vetrofania al di là dei marchi sicuramente l'obiettivo è quello che questi ristoratori facciano comunità e scambino anche quelle che sono le loro esperienze appunto con gli altri ristoratori le informazioni vengono date singolarmente dalle diverse aziende che fanno parte del gruppo sia singolarmente ma organizziamo spesso vari eventi ad esempio oramai è diventata quasi una tradizione ogni anno organizziamo una manifestazione appunto del ristorante del futuro che organizziamo proprio qui a Milano in cui appunto creiamo dei momenti di incontro con i ristoratori delle tavole rotonde e in più appunto ci piace poter collaborare con la realtà appunto come come Fipe perché permette ancora di più di aumentare e migliorare questo legame con il ristoratore torniamo sul personale che questo è il personale ci serve ed è molto difficile rintracciarlo ecco che tipo di come siete organizzati come può rintracciarvi il ristoratore diamo dei messaggi chiari così possono sicuramente subito sfruttare questa vostra professionalità ma allora noi oggi diciamo che anche grazie all'inizio di percorsi di collaborazione con associazioni di settore quali Fipe stiamo in grado di raggiungere un numero altissimo di ristoratori ad oggi lavoriamo con circa un migliaio di strutture siamo atti un migliaio e siamo partiti da poco beh un migliaio non sono poche ah ok no capito sono poche no non solo poche voglio dire diciamo che su però abbiamo una platea di riferimento che conta 330 mila attività commerciali che impiega un milione e mezzo quasi di addetti al settore avete un sito inter vostro personale del gruppo dicevo appunto prima oppure avete ognuno diciamo è organizzato in maniera autonoma ma allora ristorante del futuro fa un po' da contenitore per tutte le realtà che ne fanno parte quindi c'è un sito di riferimento del ristorante del futuro che possiamo dirlo che è www.ristorantedelfuturo.it semplicissimo giusto corretto guardo Antonio guardo Antonio Antonio poi chiaramente ognuno di noi noi abbiamo il nostro sito la nostra mobile app il nostro software che è Jojolly ed è scaricabile sia da Android che da iOS qual è la richiesta più richiesta? la figura più richiesta in assoluto? la più richiesta la più richiesta è il comì di sala aspetta guarda c'ho lì Davide qual è la richiesta davide vieni qua Davide qual è la richiesta? no perché queste vogliamo ci interessa capire assolutamente allora diciamo che per realtà come la nostra noi supportiamo soprattutto le figure extra quindi è molto più frequente la richiesta di figure che ricoprono che ricoprono ruoli non direttivi quindi non uno chef de rang è più facile il comì non un è più facile un aiuto cuoco un lavapiati piuttosto che un executive chef o un è più richiesto il runner del bartender però diciamo che le richieste più che vengono fatte più spesso sono in comì di sala bartender che in questo periodo è una figura veramente difficile fa spettacolo fa spettacolo no perché altro devi fare i drink non deve creare code davanti al bancone ma deve anzi essere un punto di supporto per il team che può essere gli altri colleghi e poi ti dico anche in cucina si va forte tra cui lavapiatti aiuto cuoco sono figure molto richieste bene allora visto che grazie una domanda in diretta prego no no vai vai da aristotradrice se arrivassi a dover chiedere aiuto per gestire la cantina come descritta poco fa vorrebbe dire non saper fare il proprio lavoro che non c'entra nulla con l'accettare l'innovazione del futuro cerchiamo di creare a mio avviso scuole professionali vere e proprie dove il ristoratore abbia le competenze per crearsi a gestire a suo piacimento e non fatto da qualcun altro eh allora subito passiamo la palla allora chi vuole rispondere dai rispondi tu intanto io direi che è più il caso che risponda come rispondiamo questa signora come rispondiamo questa signora ma allora rispondiamo che sicuramente ha ragione da un punto di vista di creazione di una scolastica che non c'è che non c'è che non c'è e questo è il motivo per cui noi facciamo formazione all'interno dei ristoranti quindi su questo la signora ha centrato uno degli elementi fondamentali del ristorante del futuro cioè il ristorante del futuro dovrà necessariamente passare da un tema di formazione per quanto riguarda la come dire la despicializzazione della cantina in parte vero nel senso che noi supportiamo non ci sostituiamo al ristoratore e questo è un altro elemento da tenere ben a mente nel momento in cui si parla anche qui di tecnologia cioè la tecnologia deve essere a supporto di quello che è il ristoratore e di quello che è la sua tradizione non deve mai sostituirsi quindi deve essere sempre presente il rapporto stretto con chi fa del mestiere la sua la sua storia e che spesso in Italia è una storia di tradizioni quindi di tradizioni di famiglie che si tramandano quindi questo rispetto ci deve essere comunque sempre il tema della scuola è un tema assai delicato è un tema assai delicato perché ovviamente su questo riferimento cioè sul tema della cantina spesso si agisce per passione e non tanto in un'ottica di business ecco si raccontano i territori si racconta un po' di paesaggio sì ma si può fare questo anche con la tecnologia ecco il tema del ristorante del futuro significa efficientare dei processi io posso efficientare dei processi senza per questo perdere in quello che è il rapporto la tradizione la storia la geografia e le non portiamo via professionalità diciamolo al ristoratore no no anzi io credo che allora il ristoratore in realtà prima di tutto è un imprenditore allora è un imprenditore a capo di un'impresa complicata oggi perché il ristoratore deve fare il direttore amministrativo deve fare il direttore marketing deve fare il direttore acquisti deve fare il direttore personale ecco io credo che la tecnologia oggi possa essere a supporto del ristoratore regalando al ristoratore tempo facendogli sparmiare denaro ma non facendogli perdere quello che è il legame con il suo ristorante quindi diciamo alla signora che magari una chiacchierata possiamo farla ma assolutamente ma ci mancherebbe altro a distanza possiamo anche ben volentieri sparargli personalmente ben volentieri ecco diciamolo signora ha ragione sull'aspetto della scuola io vorrei una battuta anche o dal presidente o dal direttore di Fipe anche per capire un attimo con le scuole perché sappiamo che Fipe ha una bella relazione con le scuole e anche in questo caso io andrei da dottor Sbraga a questo punto anche perché lui vuole stare defilato ma questa mattina no allora raccontiamo un po' il rapporto con le scuole Fipe cosa ha pensato per rafforzare questo aspetto noi proprio qualche giorno fa la settimana scorsa abbiamo realizzato il primo Talent Day Fipe Talent Day in Italia l'abbiamo fatto con un evento sia la mattina che il pomeriggio coinvolgendo tutti i protagonisti sia a livello istituzionale che a livello invece più professionale c'erano le scuole di formazione c'erano gli esperti del Ministero della Pubblica Istruzione in particolare per esempio non so se qualcuno di voi conosce i cosiddetti ITS gli istituti tecnico superiori su cui bisogna investire le associazioni le imprese possono investire direttamente per realizzarli sono quei percorsi post diploma che servono a creare profili professionali più avanzati rispondendo anche all'osservazione che ha fatto la signora prima abbiamo ottimi rapporti con gli istituti alberghieri e della ristorazione o dell'enogastronomia come sono più propriamente chiamati c'è molto da fare però il tema della formazione è un tema diciamo particolarmente critico in Italia perché i percorsi di formazione professionale sono diciamo troppo sbilanciati a favore delle competenze di carattere generale che servono perché ricordiamoci che si parla sempre di una scuola di formazione secondaria superiore quindi si formano dei cittadini però bisogna formare anche dei professionisti lo sbilanciamento sulle competenze generali è molto forte si fa poca formazione professionale ci vogliono gli istituti tecnici superiori ma ci vogliono anche percorsi di altra natura ecco io penso che la formazione sarà la sfida del futuro perché poi si aggancia anche al tema della disponibilità del personale del personale qualificato perché voi sapete che al netto diciamo della situazione attuale della pandemica che non abbiamo ancora superato esiste un problema di reperimento del personale ma soprattutto di reperimento di personale qualificato che abbia le competenze giuste per fare un certo mestiere non di personale to-cur qualunque generico allora la formazione è la vera sfida io penso che anche l'innovazione sia diciamo un asset da seguire fermo restando il fatto ripeto e questo lo sottolineo l'innovazione è uno strumento non è il fine quindi serve a risolvere dei problemi a fare delle cose a far fare meglio le cose all'impresa non è l'innovazione per l'innovazione perché altrimenti messa così sembra che ci sia qualcuno che ce l'ha ordinato di innovare a prescindere l'innovazione va finalizzata a risolvere dei problemi per esempio adesso senza fare torto a nessuno prendo per esempio l'esperienza di Hotbox hanno capito che c'era un problema nel delivery fondamentale che era quello di far arrivare le pietanze in certe condizioni soprattutto se poi tratti un prodotto che non è un prodotto come posso dire quello classico da delivery dalla stessa pizza ovviamente esiste un problema anche con la pizza ma pensate quando ti arriva una carne che è uno dei problemi più grossi penso nel delivery per mantenerla loro hanno fatto hanno adottato questa soluzione l'incrocio domanda offerta è un'altra cosa interessante la cantina la piattaforma digitale per l'incrocio domanda offerta anche se lì quello è tutto un mondo da esplorare perché poi bisogna anche capire c'è tutto il tema della logistica diciamo che è il tema più critico che abbiamo sempre da affrontare ecco tornando alla formazione io credo che formazione 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 per i prossimi anni a partire anche da quella degli imprenditori non me ne voglia il presidente Deida ma credo che ci sia da lavorare anche sulla formazione manageriale barra imprenditoriale perché è da lì che poi si parte se non hai un imprenditore consapevole e anche difficile che possa pensare di fare formazione sulla propria squadra Bene grazie direttore di averci dato anche il suo contributo in questo talk allora Antonio visto che tu sei difficile no? dobbiamo chiudere questo cosa abbiamo trascurato in questa nostra chiacchierata in questo nostro talk abbiamo trascurato no ma giustamente io ragazzi no no io però volevo chiudere con un gioco vai prendiamo una giornata limite di un ristoratore del presente non del futuro un ristoratore mette piede giù dal letto gli arrivano due messaggi oggi il cameriere non viene al lavoro il cliente di ieri sera ha ricevuto la pizza fredda va avanti beve il caffè la fornitura di carne è in ritardo poi beve il caffè ah ma ieri cosa ho venduto di più cosa devo spingere oggi che bottiglie devo spingere devo arrivare al ristorante devo dire ai camerieri di sanificare i menu devo fare i conteggi dei buoni pasto devo modificare l'arredamento del locale tutto questo è una giornata magari limite di un ristoratore è qui che allora deve venire l'innovazione il ristoratore si deve alzare bere il caffè andare al ristorante e fare il ristorante accogliere i clienti dare un occhio alla cucina tutti questi casi limite perché magari non tutti i giorni perché magari però alternativamente sono casi che uno si potrebbe presentare ed è lì allora che viene il ristoratore del futuro tutti questi problemi grattacapi deve avere qualcosa qualcuno qualcosa che li aiuta a superarli senza perderci il sonno senza perderci la testa credo che siete stati chiarissimi però diamo un riferimento preciso per esempio un portale un sito internet un telefono ristorante del futuro punto it come ho detto prima Mattia lo ripetiamo no perché dobbiamo ripetere e anche poi c'è the one sider che magari perché no un futuro potrebbe anche farne parte perché no non fa ancora parte lei di questo gruppo no non ancora allora direi di fare una tutta finale del ristorante del futuro facciamo un giro di microfono sì possiamo passarlo visto che vabbè è troppo severa facciamo finta di niente allora io penso che il tema che si è emerso oggi Antonio in generale tutti è che l'innovazione è a supporto della tradizione cioè sono due cose estremamente complementari credo che tutti ci siamo associati per evangelizzare questo tema e Fipe in questo in questo contesto è il nostro megafono quindi il primo step è stato il ristorante del futuro adesso ci aspettiamo diciamo da Fipe che sia appunto la nostra cassa di risonanza per far capire che siamo come Mr. Wolf di Pulp Fiction e risolviamo problemi insomma ma pronto ma una battuta finale io la farei su quello che potrebbe essere l'orizzonte che ci che ci aspetta sicuramente efficienza sicuramente supporto alla ristorazione però ci deve essere anche tantissimo ascolto delle esigenze del ristoratore che sono varie variegate dal Friuli a Lampedusa e ci deve essere soprattutto rispetto nel trasferire quelle che sono le loro tradizioni la loro storia affiancandole a tecnologia perché la tecnologia non è il male ma anzi è il supporto affinché si possa continuamente a mantenere questo grandissimo rapporto con la tradizione logistica è il digitale non fa a dimenticare la logistica la logistica è un elemento critico di successo di insuccesso ed è una delle cose che sicuramente dovrà essere presa in considerazione e che noi prendiamo in considerazione nel nostro piccolo hotbox beh io se posso chiudere con qualcosa chiudo con il tempo il tempo che ne abbiamo parlato è qualcosa che è regalato e non si può comprare è la risorsa più preziosa che c'è se tu senti un'intervista di Jeff Bezos uomo più ricco del mondo presidente di Amazon dice io con tutti i soldi che ho non posso comprare il tempo quando finisce è finito punto il ristoratore spesso possiede una piccola attività perché magari ha un ristorante magari ne ha due è difficile trovare il ristoratore che ha la catena di ristoranti e il tempo che loro usano nel risolvere tutti questi grattacapi che diceva Antonio non lo conteggiano mai perché tanto il ristorante è suo e quindi io comunque lo devo fare quindi io quello che dico è se voi trovate un modo di risparmiare anche solo 5 minuti di tempo al giorno 5 minuti di tempo al giorno per 365 giorni sono parecchi in un anno cercate di farlo quindi chiudo con questo però una battuta mi devi dire siamo organizzati in tutte le regioni aspetta aspetta un attimo un attimo solo con hotbox con le consegne siamo organizzati ovunque noi siamo in grado di dare il prodotto in tutta Italia e garantiamo 48 ore di service in tutta Italia io semplicemente volevo dire che quello che è emerso oggi è che la distanza tra innovazione tecnologia e ristorazione grazie al covid si è ridotta in maniera sostanziale oggi il post covid è l'inizio di un percorso di innovazione di digitalizzazione che porterà a semplificare la vita dei ristoratori siamo ad un punto secondo me di inizio di questo processo e Fipe realtà come Fipe hanno un ruolo centrale fondamentale proprio perché possano fare da cassa di risonanza e accelerare questo processo come rintracciarvi di nuovo? jojolly.it o ristorantedelfuturo.it prego ma io invece concludo con il rapporto umano nel senso che sicuramente abbiamo parlato di tanta tecnologia e però un argomento che abbiamo ritirato fuori spesso l'interno è il fatto che comunque ci sono delle persone dietro appunto ognuno dei servizi citati oggi ci sono delle persone competenti persone che ascoltano il ristoratore che lo vogliono ascoltare e crescere grazie appunto a questo rapporto con il ristoratore quello che questo si ha nel DNA anche di Fipe proprio di ascoltare i suoi associati e anche noi facciamo la stessa identica cosa per cui speriamo di poter sentire presto appunto i nostri amici ristoratori bene io direi di concludere con il nostro presidente chiudiamo la trasmissione il talk rilanciando poi per il pomeriggio che ci saranno altri argomenti molto interessanti grazie di essere stati con noi presidente concluda lei no 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 la parte più difficile è la sua volevo approfittarle prego io non so se il nostro il nostro presidente del consiglio Draghi vede anche la sua però qui abbiamo avuto un parterre per dire che sforzo sta facendo la ristorazione italiana con questi partner per farla diventare la prima destinazione gastronomica di Europa perché i nostri grandi competitor che sono la Spagna che è nata solo 40 anni fa la Francia che tutti poi ci pensa questo Fessacchiotto che dice che la migliore cucina è quella greca ma lui fa comunicazione allora invece noi stiamo facendo questo passaggio questo grande sforzo dopo il covid per riorganizzarci perché noi abbiamo visto quanto rappresenta il valore aggiunto del nostro comparto quanto valiamo in termini di occupazione e non ci sta aiutando nessuno però ci siamo accorti allora dobbiamo sfruttare queste occasioni anche sotto profilo politico e quindi parte la parte politica della mia federazione quindi benvengano queste collaborazioni perché servono la sopravvivenza di aziende che hanno fatto la competitività e stiamo facendo questo grande sforzo ma che ci venga anche riconosciuto quanto vale il mondo della ristorazione e della gastronomia chiudo con la battuta da sempre del dottor Sbraga del nostro centro di studi al quale domandavano perché viene in vacanza in Italia e lo dicevano vent'anni fa perché c'è la gastronomia perché il cibo perché il ritorno in Italia non era il museo ma perché si mangia bene e noi lo sforzo lo stiamo facendo ancora con tutto questo tempo libero che abbiamo produrre meglio e avere un cibo sicuro a un prezzo competitivo con la sicurezza alimentare che abbiamo assicurato in questi due anni di pandemia con un buon collegamento per la pausa grazie tra produttore ristoratore e consumatore prego giustamente ricollegando a quello diceva il dottor Deide e il dottor Sbraga perché allora a livello politico non creare un voucher digitale io una cosa che mi frulla in testa da un po' voglio approfittare di questo palco un voucher digitale per i ristoratori per permetterli di quantomeno mettere in pista dei progetti di innovazione se ne sta parlando magari per l'agricoltura per l'animentare perché non farlo anche per l'orica governo che riconosce un voucher un bonus ai ristoratori che volessero rinnovare la butto lì poi può essere magari per parlare un altro talk show dedicheremo questo e il dottor Sbraga naturalmente ci darà una mano su questo noi per questa mattina da Osta abbiamo terminato e vi ringraziamo ringraziamo coloro che ci hanno seguito da casa ringraziamo i nostri ospiti per ora da Osta dallo spazio FIP è tutto linea allo studio grazie a tutti grazie a tutti